Il Presidente federale ha promesso a Napolitano due medaglie dalla pallavolo, è una responsabilità troppo grossa? Per il Presidente che ne ha promesse? Penso che sia giusto, nel senso promettere non lo so, però sia giusto che tutte e due le nostre nazionali, visto il valore della nostra federazione, visto il valore di quella che sono veramente i giocatori in campo, possano puntare, debbano puntare a questo risultato. Poi penso che ci sia la consapevolezza che sia da una parte che dall'altra il livello è molto alto, sarà difficile, però penso che non sia una promessa così folle. Hai parlato del primo avversario, la dominicana, è un avversario giusto per iniziare, ci dici due cose su questa partita? Sì, è un avversario giusto perché penso che questo torneo, avere una squadra fortissima possa essere difficile, avere una squadra forte, una squadra che sai che se non giochi bene puoi perdere, sia proprio l'ideale per partire subito pronti via. Ma è una squadra questa che conosciamo, è una squadra che conosciamo tanto, è una squadra molto potente fisicamente, ha certi momenti in cui c'è un po' di calo, di attenzione, di errori e quello noi dobbiamo saperlo sfruttare. Però è una squadra che se la lasci giocare, se non la metti in difficoltà, se inizi a sbagliare anche tu qualcosa, è una squadra che gioca la pari con te, ti può portare veramente la partita in una situazione molto molto complicata. L'Italia viene qui, lo ha detto più volte, con l'obiettivo di salire sul podio che non ha mai conquistato. Ritieni che questo, per come sono andate le due ultime Olimpiadi, possa essere un handicap per la tua subformazione? No, sarebbe se non fossimo in grado di poterlo fare, nel senso che se partissimo così, come succede molte volte, come brutto difetto che abbiamo noi italiani in tutti lo sport, di vincere prima ancora di partecipare, con le parole, penso che sarebbe un grosso problema. Il fatto della consapevolezza di potercela fare, come possono farcela 5-6 squadre, penso a salire questo podio, penso che sia un vantaggio, nel senso che vuol dire che le giocatrici sono giocatrici di livello. Giocatrici che, come dicevo prima, penso che abbiano veramente, in questi quattro anni, pur arrivando uguali con la vittoria di World Cup, come è stata nel 2008, pur arrivando dopo aver vinto un europeo, addirittura anche una Grand Champions Cup, hanno la consapevolezza appunto che noi siamo forti, siamo una squadra forte, non ci siamo arrivati a tenere determinati risultati così, perché abbiamo azzeccato l'annata come poteva essere quella del 2007. Siamo arrivati qua, passando anche attraverso le sconfitte, e penso che questo sia stata ancora una cosa che ha fatto crescere maggiormente il gruppo, per cui penso che siamo una squadra che arriva tutta unita, allenatore, squadra, società, allenatore, federazione, soprattutto atlete, con la maturità giusta di capire quelle che sono le nostre possibilità e cosa dobbiamo fare per provare a fare qualcosa di eccezionale. Rispetto al 2008, l'Alto 2 Olimpiade è andato tutto come volevi tu, a parte la perezza di Cardullo, l'infortuna di Cardullo. Sì, purtroppo Paolo non sarà con noi, è ovvio che ci spiace, ci spiace sia per il nostro discorso di gioco, ma soprattutto spiace per lei, perché per quei che riguardano il nostro gioco penso che ci sono atlete di altissimo livello, ci sono atlete di altissimo livello, atlete che poi hanno lavorato tutta questa estate, e sicuramente rispetto al 2008 diciamo che tutto è filato più liscio, ho tolto questo episodio, tutto è filato più liscio. Penso che abbiamo soprattutto potuto programmare bene, programmare il mercato come si voleva, poi se si è programmato bene o male, questo lo dirà il campo. Sicuramente arriviamo bene, arriviamo dopo un'estate tranquilla, dove si è lavorato tanto, si è lavorato penso molto bene, per cui sicuramente rispetto al 2008 arriviamo con una tranquillità Taviro Galette maggiore. L'inserimento di Di Gennaro in seconda linea è un modulo che ripeterai in tutte le partite, o in più di una partita secondo te? Può essere, può essere, perché alla fine io penso che nel nostro gioco, nel pallavolo femminile, sia tante volte più importante una palla, o anche più possibile da realizzare, una palla in difesa che non magari un muro, che non magari un attacco, per cui avere un giocatore in più di livello altissimo per la difesa, poi per una squadra come noi, che nella seconda linea costruisce quanto di tanto buono viene fatto nella prima, sia molto importante, per cui è una soluzione che può essere usata in tutti i set, usata in certi set, usata in certi frangenti di set, però è una soluzione che sicuramente può essere molto positiva, come si è vista anche ieri, come si è vista anche ieri nell'amichevole. Oggi, ma l'avevi già ripetuto altre volte, hai detto io non sono un pifferaio magico, sono uno che è quello che i risultati che ho ottenuto li ha conquistati con, dimostrando con le vittorie. C'è un po' di rimpianto per non avere un altro carattere, oppure sei contento di essere non un pifferaio magico? No, ma probabilmente neanche rimpianto, perché purtroppo non ci riesco, nel senso che, come ho detto, io penso che veramente, penso di aver fatto bene sia con i club che anche con la nazionale, spero di continuare a far bene, però la convinzione mia è che sono arrivato a un certo punto che mi sento ancora giovane, io eccoci, anche se ha la soglia, la soglia tra tre anni, dei 50 anni mi sento ancora un attore giovane, un attore che deve provare le cose, deve provare, e non è un caso, mi è fatto piacere quando ho sentito Prandelli parlare, anche lui, di questo bisogno del campo, perché ci sono allenatori poi che magari non lo sentono, io penso che non a caso anche molte nazionali magari fanno bene con l'allenatore, poi quando quest'allenatore rimane per tanto tempo senza allenarsi, il rendimento spesso cala, se si guarda un pochino, non solo nella pallavolo, in molte nazionali questo può succedere, poi ci sono i casi anche non così, però questo penso che sia importante appunto per il mio lavoro, per continuare a cercare di essere un allenatore di primo livello, e anche però per la nazionale per cui lavoro, nel senso che penso che sia giusto che un allenatore si presenti all'appuntamento importante, importanti cruciali, allenato anche lui. Questa è la mia convinzione, ripeto, io l'ho sempre sostenuta, come ho sempre sostenuto che magari ci sono periodi che si può fare, altri periodi che non si può fare. Io quest'anno per dire prima delle Olimpiade, manco mi è passato per la mente di chiedere di avere questa possibilità, però adesso penso che sia venuto il momento per me appunto per cercare di mettere in pratica quello che predico da tempo, cioè di tornare anche a lavorare durante l'anno, se ci sarà modo di lavorare con qualche nazionale anche durante l'estate, ci sarà da valutare appunto tante cose. Cercherai di vincere, cercherai di ottenere quello che manca all'Italia, però non senti di rimostrare niente? No, no, ma assolutamente no, nel senso che devo dimostrare prima di tutto l'unico a cui sento di dover dimostrare, l'unico che mi fa sentire sotto esame sono io, nel senso che come allenatore penso che la soddisfazione di arrivare a raggiungere ancora un alloro e poi questo alloro di eventuale medaglia olimpica sia il massimo della vita, sia il massimo della vita, per cui diciamo che sotto esame mi ci metto io per primo, sul fatto di dover dimostrare magari di poter meritare di allenare ancora la nazionale italiana, onestamente non è per essere immodesto, però mi fa abbastanza sorridere, nel senso che penso che di aver fatto qualcosina che sia stato, che sia anche apprezzato tra l'altro questo, che sia anche apprezzato questo, per cui non penso, non mi sento assolutamente legato a un risultato o meno sul poter essere o meno di nuovo allenatore della nazionale italiana. Grazie.